Ciao a tutti, con questo video voglio inaugurare una nuova sezione di questo canale che è una sezione che riguarderà il parlare in pubblico, le tecniche di parlare in pubblico, il cosiddetto public speaking, come quindi rendersi accattivanti, come piacere ad un pubblico di persone, come gestire un gruppo, un'aula, una situazione formativa o comunque come fare un discorso in abito lavorativo, ma anche in situazioni conviviali, insomma, dove però è necessario e magari utile fare bella figura piuttosto che fare la solita figura di merda, diciamo così, per cui seguite, diciamo, i video che posterò in questa nuova playlist che sarà parlare in pubblico per migliorare, insomma, un po' la vostra capacità di interagire in pubblico. Bene, per questo video è tutto, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!